Siamo alla Vitrifrigo Arena per la tappa inaugurale della World Cup di ginnastica ritmica e noi di Rossini TV siamo pronti a partecipare. Grazie per la visione! Grazie per la visione! E' un'emozione che non avremmo mai potuto sognare e oggi il nostro sogno si è realizzato. Allora potete salutare gli spettatori di Rossini TV con un vostro motto, con un vostro tipo. Volere e potere, never give up! E' un'emozione che non avremmo mai potuto sognare e non avremmo mai potuto sognare. E' un'emozione che non avremmo mai potuto sognare e non avremmo mai potuto sognare e non avremmo mai potuto sognare. E' un'emozione che non avremmo mai potuto sognare e non avremmo mai potuto sognare. Prime classificate, medaglie d'oro, vincitrici della finale dell'esercizio d'insieme con 5 palle, la squadra del Dittaccio! Grazie a tutti!